Palazzo Gotico, aperto alla cittadinanza. A partire dal 18 marzo, nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10 alle 18, l'edificio storico aprirà le porte ai visitatori gratuitamente grazie alla disponibilità dei volontari. Al sabato Palazzo Gotico sarà accessibile grazie agli operatori dell'associazione Touring Club attraverso un protocollo siglato stamattina con l'amministrazione comunale, che prevede anche una spesa di circa 2.500 euro per la loro formazione. Quando noi avvieremo questo nuovo Aperti per voi a Piacenza, che per noi è un grande risultato, avremo dei volontari che saranno tutti soci ovviamente e quindi saranno presenti di sabato tutta la giornata, praticamente dalle 10 alle 18, in due turni. Alla domenica invece, ad aprire le porte di Palazzo Gotico, saranno i pensionati volontari di Hauser. A pagamento o libero accesso ai cittadini? Libero accesso, perché il Gotico è la nostra piazza coperta. In piazza non paghi, dunque nella piazza coperta, quando ci vai, non paghi.